Ancona con i suoi ospedali riuniti all'avanguardia mondiale per una tecnica innovativa in chirurgia plastica. Merito dell'equip guidata dal dottor Michele Riccio che sta sperimentando da circa un anno una procedura in grado di assicurare una vera e propria rigenerazione della cute. In sintesi viene prelevato un frammento di pochi millimetri da una zona donatrice nascosta come può essere linguine. Questo frammento viene disgregato con un particolare strumento ricavando una soluzione acquosa provvista comunque di cellule vitali e ad alta concentrazione dei fattori di crescita specifici. Successivamente si avvia un processo di attecchimento dei microinnesti su ferite o cicatrici con risultati davvero sorprendenti operando una rigenerazione dovuta alla reduplicazione delle cellule. Una metodica di intervento che ha suscitato interesse e curiosità anche oltreoceano tanto che degli studiosi statunitensi sono giunti ad Ancona per videoriprendere tutte le fasi della procedura anche per pubblicare un articolo su una prestigiosa rivista medica americana. Legittimo quindi un pizzico di orgoglio da parte del dottor Riccio che nella fattispecie ha effettuato un intervento di riparazione di un'arte inferiore caratterizzato da perdita di sostanza di cute e tessuti molli. Allora dottore è un caso raro o addirittura unico che un'equipe statunitense viene in Italia specificatamente nelle marche per prendere? Nella mia esperienza per questo ospedale è sicuramente unica come situazione, come novità, però anche scaturisce dalla estrema novità e innovazione di questa tecnica rigenerativa che consente di rigenerare cute o osso, cartilagine, quello che serve al paziente senza lasciare cicatrici e rigenerando il tessuto davvero e quindi questa è una grande novità che ha interessato un pochino a livello internazionale. Generalmente su quali tessuti si interviene? Allora noi con chirurghi plastici e chirurghi anche traumatologici della mano interveniamo sulla pelle per quanto riguarda le perdite di sostanza, ulcere croniche, diabetiche, perdite di sostanza post-traumatiche, ustioni anche e sull'osso abbiamo avuto esperienze per colmare perdite di sostanza dopo fratture o dopo pseudoartrosi. Consideri che questo è soltanto l'inizio parlando di chirurgia ricostruttiva ovviamente perché essendo un chirurgio plastico devo dire che questa metodica ha anche ampie applicazioni in chirurgia estetica perché se posso rigenerare la pelle per ripararla posso anche rigenerire il viso e quindi questo lascia immaginare i scenari futuri. C'è anche un aspetto divulgativo perché poi abbiamo letto che tutta questa esperienza verrà promozionata in giornali specializzati importanti degli Stati Uniti. Esatto, c'è questa rivista bostoniana, Giove, che è legata al mondo scientifico americano, che ha accettato la pubblicazione che noi abbiamo mandato e ha inviato questa equip per registrare la procedura che non era conosciuta. Possiamo dire che è un'eccellenza della nostra regione oltre che di questo ospedale in particolare? Ma io lo penso fortemente che questa sia un'eccellenza assolutamente, però devo anche dire che il nostro ospedale, questa azienda che vorrei fosse un pochino più amata dagli alcuni italiani e marchigiani è piena di eccellenze. Forse ci dovremmo anche ricordare quando parliamo di politica sanitaria, cioè evitiamo di inclinare un sistema che funziona, che è pieno di eccellenze. Un'ultima cosa, questa tecnica, anche perché si parla molto di sicurezza, viene eseguita, ho letto totalmente in sala operatoria, in condizioni totalmente serili. Assolutamente sì. L'altra grande novità è che noi stiamo ottenendo con questa tecnica di microinnesti, di 0,5 micron, sono i frammenti di tessuto che noi andiamo a inseminare nel paziente, in sala operatoria, senza uscire dal campo operatorio, otteniamo lo stesso risultato che ottengono in questo momento il laboratorio con uno studio di cellule staminali, con tutti i problemi etici, normativi e anche i rischi che sono legati a questa metodica, come si sa. Invece noi semplicemente utilizziamo il tessuto di quel paziente come banca e lui stesso diventa il proprio laboratorio per rigenerare se stesso e questo è il concetto. Ultimissima cosa, gli sviluppi che ci potrebbero essere, anche se un po' li ha anticipati? Sono infiniti, noi abbiamo cominciato la chiesoplastica, gli ortopedici svilupperanno insieme a noi l'osso, la cartilagine, per esempio nelle artropatie degenerative, dobbiamo considerare che la nostra popolazione sta invecchiando, quindi il core business del futuro della sanità, cioè l'obiettivo preeminente è quello di risolvere i problemi dell'invecchiamento, quindi invecchiamento vuol dire dell'acute, vuol dire delle cartilagini, vuol dire delle articolazioni dell'osso. Noi abbiamo preso oggi una lesione qualsiasi esplicativa, quindi diciamo che le lesioni non hanno dimensioni perché dovendo rigenerare l'acute partendo da micro frammenti, da micro innesti 0,5 micron, il concetto dimensionale non è un problema. Voglio insistere su questo punto, noi preleviamo un frammento al tessuto proprio di quel paziente, lo aggreghiamo in frammenti piccolissimi, microscopici 0,5 micron, inseminiamo la lesione, per esempio cutanea, con questi frammenti, siccome le cellule sono vive, da quel momento cominciano a rigenerare, a riduplicarsi, quindi non abbiamo semplicemente la riparazione, l'effetto toppa, come si faceva una volta con l'innesto tradizionale, ma abbiamo la ricostituzione del tessuto. In un momento storico particolare come l'attuale, con la sanità alle prese con gravi difficoltà, un bel esempio di innovazione e di ricerca. Le problematiche quotidiane legate a budget sempre più ridotti non scoraggiano le professionalità presenti all'interno della struttura. Sentiamo Paolo Galassi, direttore generale, azienda ospedali riuniti di Ancona. I nostri professionisti sono collegati alle società scientifiche italiane e internazionali. Quella introdotta in questo caso specifico da dottor Riccio nell'ambito della sua SOD è stata una novità a livello internazionale per l'esecuzione della tecnica particolare che elimina praticamente le cicatrici e permette di rigenerare il tessuto e la parte ossea. Terrei a sottolineare che in questi momenti particolari di carenza di risorse, l'azienda ospedaliera universitaria di Torrette riesce comunque a non fermare il passo, ma a progredire e mettersi all'avanguardia addirittura a livello mondiale. Sicuramente avete vissuto giorni migliori proprio come struttura, però nonostante questo la ricerca è all'ordine del giorno della vostra attività? Non può fermarsi. La ricerca e l'innovazione sia tecnologica che procedurale è un'azienda come questa, l'unica di secondo livello, ospedaliera universitaria, non può assolutamente battere il passo, bisogna che vada sempre avanti. Insomma si aprono nuovi orizzonti e scenari inediti per la chirurgia plastica rigenerativa, un comparto sempre più in espansione con Ancona decisamente in pole position in campo non solo nazionale, ma addirittura mondiale.